Aspè, 1, 2, che avevamo detto appunto Yae, sperando dovrebbe essere buildata Yae io me lo, vabbè senti, fischio è più easy da fare, non devi perdere troppo tempo con le torrette dopodiché abbiamo Raiden, ho buildato sarà apposta e poi non la vado a usare ma che se è scemo, 1, 2, cazzuettino qui in cima sperando abbia 4 viridescent, o le oschi e via di Benny, let's go, oh non cambia niente prendiamo una a caso, bello, e mo, 1, 2 e un po' di danni, non lo farà mai mi sposto dall'altra parte non lo spererà mai nella vita l'hydro c'è troppo elemento, c'è ogni elemento del mondo tranne che l'hydro qua dentro scusate se perdete la vista, devo farlo per essere più efficace sugli due stronzetti madonna, 50k zio ma è tipo illegale in 4 paesi differenti 50k sì? dove stanno tutte? vieni qua, vieni qua, vieni qua volare no, ma no, quanto l'ho, no, avete visto la vita che calava? sono esplose tipo stavano ancora volando ah oh, no, sì, quanto ci sto trollando ma sono già crepate aspetta un attimo no, voglio finirla così addio ma tu, tu potrai mancare un abisso in cui vai a giocare di danno da caduta? ci che hai giocato? eh, radine per carry tu, eh, nivelet carry io ho un bell'hyper non tu, ah, io ho fall damage ma qui vola dal sesto piano ti rendi conto? ed è meta come cosa è efficace farlo perché uno le gruppa cioè è pazzissimo come cosa veramente è proprio storta non c'ha mezzo senso eppure funziona e tocca farlo anzi è proprio stortissima madre anche sta Raiden vabbè e c3 bisogna ammetterlo i critici bella prego mi dà un po' di recce argina preso il pyro mannaggia a me beh, non serve bene neanche guarda c'è bisogno di rifare Sara però no, dai non serve guarda, c'è neanche bisogno di Benny senza Benny quanto fa Star Raiden? madre senza niente cioè tipo la mia fa così si è baffata madre illegale molto illegale molto altamente illegale gym fisica più forte della fisica tu ci scherzi tu ci scherzi siamo tutti fisica però fisica cioè danno questo è emotional damage quella caduta dal sesto piano allora qua che c'ha ci sono gli stronzetti però si fa velocemente piazza di Nivelet prima la skill furina e ulti anche qua poi fa come ti puoi uno riposizionare con Fischel e poi con Jin li puoi un attimo gruppare vicini puoi ultare così e li hai gestiti se non creparono già così già sono morti no ma è illegale questo Nivelet è illegale va che roba sono già andati no 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 sto accanto a bannato sto accanto a che male non ho recharge oh di pochissimo ok adesso si non ho ultato con Jin mi servirebbe ma ne possiamo fare a meno direi possiamo pure farne a meno madre no 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 è illegale ups volevo fare una skill no no è illegalissimo no 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 Nivelet che hai fatto si è fermato si è arresa ha detto basta i danni prossimi li fai tu madre un minuto cioè è assurdo ci puoi mettere quello che vuoi non vai sotto il minutino anche se giochi a caso hanno leakato tutto abbiamo visto Chlorind quindi easy follow perché vi porto leak e tutte le cose si che win che cosa gioca l'arma l'elemento i cazzi un sacco di robe nuove con i bond of life altri personaggi Dainsleaf che viene picchiato nella lore bellissimo un botto un botto di roba oggi abbiamo visto vado io non vorrei che lui mi schivasse adesso perché adesso vai in aria giusto ti prego no no non è venuta in aria ok adesso vai in aria maledetta vabbè il lanno l'ha preso però olè vabbè ha preso più di metà vita ci sta va bene così ero in skill my bad skill issue che è successo potrebbe essere saltata la corrente io stavo facendo la skill Sara è stata al bu no mi è caduta la tizia del primo piano sopra vi ricordate che era il sesto piano addio ecco cosa mi è crollato che ho visto Sara partire era il fatui di prima eh cazzarola la vedi la farò adesso la skill di Raiden crita ti prego quanto 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 bro 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 no 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 non ho ben visto no 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 non mi è molto chiaro puoi per caso ripetere puoi per caso non c'è bisogno di far niente io aspetto la seconda fase adesso ho letto male ho letto 466.000 ma potrei un attimo eh non ci ho visto bene forse forse non ho visto bene ragazzi eh potrebbe essere potrebbe essere madre santissima quanto fa su questo? non ho visto il critico non l'ho visto bellissima però no eh illegale veramente no 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 nah no 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 illegalissima madre che roba Vai finisci Ah Sara mi serve ancora un po' di energy A posto finito Madre Madre Nah 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 Sì ma la mia cocomi fa praticamente quei danni dai Sono bassi Madre E c'hai cocomi quei critici Fargo di Che t'ha preso Ma quanto crit e meggio aveva scusa Mostramelo Anche se più di questo Ho i miei dubbi No questo non è solo Questo è forte e basta Fish è andato un attimo al baretto Se sta a riposare Una pauta ci sta Ha già fatto Ha dato molto per il team Oddio Un po' più nuvilletta ha dato Però anche lei ci si è messa Facciamo così Così faccio prima a fare Lei subito La levo Ok posso ultà grazie Esplosa Ok tocca Stiamo un pelo lontani Peletto eh Che tu pensa Muori comunque Con il top team Uno dei team più forti del gioco Muori comunque Cioè non c'è possibilità Comunque crepi Guarda la vita Che mi toglie Ah cura Madonna Le stick che prendi 57k Cioè io finisco qui la rotation No Cioè non è che lo one ruoto 60k Quanto? È rimasto Un peletto di vita Gli è rimasto Una skill sua La ulti quanto fa? Mi fai una skill Stava avendo esploso Un attimo da coppeglia Madò Ma Ma Secondo me Dunque io lo pullerei Magari qualche Naida c2 Per farti un hyperlum Perché vedo Questo account Non ha molti danni Eh Gli ne mancano un pochetto Io Io sistemerei Io ho un attimo Qualcosì Io non so se questo Con due rotation Lo shot È altamente fattibile Che qui basti Una rotation e mezzo Contro sto boss Geo Perché fai troppi danni Ok Ah Quanto fa? È proprio che mi ha fatto Badonna 465 Mi ha fatto perdere tempo Purtroppo Ha perso un po' di Di predescent Però guarda che roba Madre Me la sta schiantando Che dolore Sara è full Sara tra l'altro Sta giocando dei set a caso Con l'armetta lì Vabbè Fa quello che può Dai Ci sta provando Sara Madre Sai che potrebbe Shottarlo con la ulti In questo momento? Il team esotico Si chiama Without Hands Ma quella mi sa che È una statistica Ho sbagliato Non volevo Colpa mia Ho fackappato la rotation Ah Colpa mia My bad My bad Non ho crittato Mi sono distratto Un secondo a leggere la chat Va bene Basta e avanza comunque No 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 Veloce C'è il pyro Sai cosa voglio provare A ultare con Raiden Però senza Cioè con lo scudo suo Con lo scudo Geo Comunque farebbe un centinaio di cap Sgravata Madanico Illegale Veramente illegale Prima di cambiare account Per guardarmi Nilo Che non ho messo Lui di una review Va bene Va bene Mi chiesto pure la review E quindi li guardiamo Velocemente Daku Sono cieco Che capelli ha Nilo Rossi L'ho missata Eccola Ti ha I talent I talent Non interessano Proprio voi Apparli Ci sta Ma non hanno danno Se giochi Bloom Giustamente C0 Quindi è Bloom Full HP Finisce di scalare sui 74000 Va benissimo Molto bello Ok Si può mettere Uno più HP Due però Prende il double hydro Quindi giustamente È una Nilo Che è veramente Più grossa Di quello che in realtà è Non so se è un team bloom qua Se non lo facciamo Eccola Arrivo Player Da un secondino Allora Andiamo di farli tutti Pian pienino Eccola qui In double hydro Avrebbe 65000 Che comunque È bello alto Ma si potrebbe appare di più Uno l'arma Senza dubbio Due Lei è già 90 Perfetto E nei pezzettini PS 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 Tutti PS Ok Manca un po' di qua C'è 8 E c'è Un 4 Ok Spesso sui 74 Quando sono sopra 70.000 Di HP È perché hanno Circa 20 HP qua E 20 HP qua Detto ciò Non serve andare full di HP Cioè Anche se hai Con te 65 Fa benissimo Ed è una buona Nilo La mastering non le serve O meglio Non è una priorità Gliela dai solo Semmai Triggerasse qualche seme Ci sta La ricerche non interessa Solo l'HP Buono Quindi questa da fare Magari qualcosina in più La ce la prendiamo È una buona Nilo Onesta Per quanto invece Riguardava O dove erano Quali buildine Lei Ok Lei era C3 Lo sapevamo L'ha ulti appata Pure in ormai L'aiuto Full emblem Ok Che culo Abbiamo quasi sempre Grittato comunque Abbiamo visto prima Sara che insomma C'ha dei problemini Abbiamo fatto come potevamo Abbiamo racimulato Tendro damage L'importante L'importante è che Ultasse Quella è la cosa principale Poi tanto Vabbè Se giochi Raiden La batteri Te la danno abbastanza I fratelli bastava E te l'abbiamo giocato Nuviletto Forina C1 C0 Armetta pescabile Neanche appata Tutti a 71 72 71 Bello Il Nuviletto Che interessava più di tutti Fishel ha dato un contributo Ma diciamo che Nuviletto forse un pelo più di danni c'erano Fishelina Vabbè Era carina Carina O direte le manca Io voglio vedere quest'uomo Quest'uomo Illegale Illegale A posto Col mare C1 C1 C10 Ebbè Ebbè 79 Fai 80 Col mare ciusse 80 320 112 Che basta e avanza Col double hydro E l'arma Hydro c'è Madre 33k Che Sia double hydro Va bene Madre Santissima Mi sto abitando alle drossi Non mi dispiacciono Li avevo lasciati appunto Li avevo messi per arlecchino No no E C1 E tu pensa quanto cazzo è sgravo Ma il fatto è che Tutto il team ruota bene Perché l'ho gestito Sia Gli elementi Da mettere assieme Come personaggi A pullato Quelli che piacevano E vanno pure bene assieme Ripeto Che le armi giuste Che le resorge giuste Mi vedete spesso Questo non basta Ma se hai L'arma di Newvie Che ti fornisce un po' di flat energy Furina Che è uno È un double hydro Due fa un sacco di Fa il giusto di particelle Fa abbastanza Poi fish Ci ho messo che è una battery Capito E si alti in build Ah 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 Vabbè Ehm Non Non importa Va bene Ehm Ehm Grazie a tutti.